L'umanità sta consumando tutte le risorse della natura a una velocità sempre maggiore. E' l'allarme lanciato durante l'Earth Overshoot Day, il giorno calcolato ogni anno dal Global Footprint Network, in cui la popolazione globale esaurisce virtualmente tutte le risorse che la Terra riesce a rigenerare. Da oltre 50 anni ormai questa data continua ad essere anticipata e questo non è un segnale incoraggiante per il nostro pianeta. E' la prima volta in assoluto che questo giorno cade così in anticipo. Immaginate di avere un'attività, un'azienda e di esaurire tutti i soldi a luglio. In pratica le vostre entrate sono inferiori alle spese. Ebbene questa è una cosa preoccupante e allarmante. Emissioni di gasserra, siccità di stacco di ghiacciai perenni, ma anche ondate di caldo, anomale, emergenze sanitarie e crisi alimentare. Sono i segnali che ci fanno pensare che si deve intervenire ora in modo serio per cercare di porre rimedio dei fattori che stanno aggravando irrimediabilmente il deficit ecologico dell'umanità.